ok siamo di nuovo in live ciao a tutti ragazzi adesso andiamo a sparare qualche colpo giusto per volevo intrattenere non riesco a stare lontano da sto gioco adesso facciamo un'altra avventura creiamo un'avventura vediamo un po' dove impostamondo bisogna andare lì no sbaglio tasto vediamo se riesco a recuperare allora impostamondo crea avventura facciamo un giro sulla terra dai poi al massimo si cambia di nuovo sempre difficile così dovrei riuscire a salire ancora che tutto fa bene attivo ok viaggia città e si inizia benissimo allora intanto fatemi inviare i saluti ok allora mi piace sto gioco non c'è niente da fare anche se faccio fatica a trasmetterlo mi crea problemi salta la linea e tutto non c'è cazzo da fare mi piace mi hanno catturato questo periodo ci va questo stavo studiando volevo portare un altro gioco oggi pomeriggio però ho detto no ma inizio con questo ci stava ci stava ci stava ok siamo in città allora che armi abbiamo questa e questa iniziamo a sparare un po' no però facciamo così cambiamo la pistola se prendo un po' la mano con questo ok spero che passare da un videogioco all'altro non aiuta per niente coi tasti comunque già vedo qualcuno laggiù ciao ciao ti ero mancato citto ah è soddisfazione che caringhia un prezzo bene lui meglio arrivano tutti la testa la testa eh no gliel'ho presa subito aveva detto i rami che era che si lamentava tremendo coi guardalo guardalo non fare il furbo buttati giù guardalo si è incazzato guarda si è cercato la finestra tutto lui sta facendo adesso arriva vediamo chi è che fa ah è arrivato qualcun altro ah sei arrivato sei tu si si ecco dove finisce il tuo viaggio mamma mia allora entriamo lì dentro c'è nessun altro sopra è stata bellissima la scena che si è creata vabbè vabbè andiamo dentro speriamo spippoliamo un po' in giro ah no sentivo dei versi ma non era da lì il suono il suono è buono ma si può fare meglio e dopo Resident Evil 2 Remake lì i suoni sono qualcosa di eccellente c'è qualcuno però non è non si affacciano chi c'è? nessuno era solo lui la desolazione e no dai sento ringhiare sono a caccia la di schifezza di inghianti allora un attimo che mi sistemo anche c'è nessuno ardalo bella nessuno ah è una cassa bene operiamo tutto anche roba che non uso mai ok c'è qualcuno? se volerebbe di no sono andata a gambe eh i furboni guardalo qua buono sotto non c'è nessuno? no e allora occupiamoci delle caratteristiche ah sto anche per salire di livello va benissimo ehm potenzimento scarti non ancora per adesso probabilità di attivare effetti vada per gli effetti l'ho sentito eh? qui c'è? nessuno non vi piace il fuoco eh? a qualcuno si però eh è vero ce n'è qualcuno che si incendia ogni tanto questo bordello per gli effetti non c'era niente in giro ok oh in tranquillità ce lo giriamo e tu? no si bravo ok ci va il furbo tranquillità è tornata anche la musica calma piano piano dimentico le cose ahah allora ah già c'è una mappa nuova quindi visitiamo un po' tutte le zone ho visto già qualcosa di luminoso laggiù non mi dire un simulacro ma guarda che bello che culo mi mancano sempre stavo guardando se funziona tutto si ma un secondo sempre ok ok devo controllare solo un attimo la pagina di Twitch che se girava tutto bene devo togliere alcune cose devo ancora imparare a organizzarla addirittura anche la pagina comunque vabbè vi ricordo sempre che è praticamente un mese che sono sopra e non ho trasmesso per un mese di fila un po' dilettante allo sbaraggio però mi va bene così per adesso finché mi diverte allora la cabina telefonica eh la sotto si passa solo di lì eh sì interessante però non ho lasciato cose da esplorare vero o no? no dovrebbe proprio di no allora niente andiamo lì sotto saranno le fogne eh boh o un passaggio vabbè bello si aprissero ste porte c'è già tanta roba però si poteva anche aggiungere qualcosa magari in futuro non sarebbe male eh potenziarlo e migliorarlo cioè aggiustarlo prima di tutto i problemi che ha e poi aggiungere zone quest sarebbe veramente bello questo gioco mi attira mi piace in compagnia è proprio una figata bello perché ci si può organizzare proprio con armamenti diversi e armature diverse per poter collaborare al meglio in base a ogni livello tra l'altro ogni livello ha la sua diciamo difficoltà e le difficoltà può essere vinta comunque cambiando usando un po' di strategia no? sai uno ha determinati tipi di armi ah no lo sento subito fare versi orrendi e sono quelli lì sapevo io eh sta pistola qua è un po' lenta con loro però abbiamo anche il nitra c'è qualcuno qua dietro non lo riesco a vedere vai laggiù ma smetti di camminare così rumorosamente i malefici fanno gli agguati va bene proseguiamo per adesso con la pistola poi vediamo quello che è gruffola qua vicino finito finito siete un po' pochi strano ma si saranno concentrati tutti da qualche parte qualcuno lo ha visto eccoli che arrivano eccoli qualcosa di più potente mi ha visto ma non ho capito dov'è come sei? uh eccolo uh per un pelo è andato allora abbiamo la zona lì ah è lo stesso finito? ah potevo sorprenderli anche vabbè fanno lo stesso hanno cercato loro di sorprendere me di lato che versi brutti che fanno quando sono da soli ok ok oppla le paperelle senti che paperelle orrende però che versi brutti chi fai? metti fuori la testa chi fai? metti fuori la testa uh eccoli che arrivano a scoppio ritardato e allora e allora e allora e allora e allora lasciate caricare sta pistola eh un attimo a scatti quello è il meno dei problemi però se risolvono tutto va meglio che ti gridi che ti gridi allora c'è qualcosa qua dentro cosa laggiù prendiamo tutto di solito qua nelle fogne è sempre un bel piatto ricco ci buttano ah io non lo sono io proprio incapace ok 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 finito piccoli piccoli ma orrendi orrendi dov'è cazzo eeeh sta sta proprio una fordizia si di brutto nooo ho fatto troppo il furbo me l'hanno fatta pagare ok allora via sta pistola usiamo questa anche se è abbastanza veloce però ha l'effetto corrosivo poi mitra e facciamoci largo fino laggiù aspetta maledetti ho già ripulito tutta la zona dove sei io qua dietro devo essere guardalo lì adesso ci dovrebbe essere anche quello grosso adesso arrivano fatto ok adesso devo arrivare di nuovo giù all'angolino poi non sono riuscito anche a raccogliere quella parte dove sei? ah prima sono saltati fuori tutti quando sono avanzato un po' c'era anche la pallina che rotola però ok 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 adesso passiamo da dietro andiamo a prendere subito quello grosso ok 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 Oh no! Aspardo! Sì! si ah è quello grosso dove sei? no ok anche lui è fatto però sono senza munizioni eh vabbè posto? adesso andiamo a pizzicare anche quello con le spade maledetto ok prima volta che l'ho incontrato pensavo fosse il boss addirittura pensate quanto è stronza dove sei? solo per la Possibile C'è nessuno? Miro nella nebbia Almeno se si passano davanti vedo il coso rosso Hai detto ma hai già ammazzato prima Si è andato Magari c'era quello grosso E' stato sostituito Lasciamolo lì Amen Chissene Se non ci segue No Va bene Proseguiamo per la nostra strada Fatta I poveri disgraziati da trucidare I poveri disgraziati da trucidare eh che palle non volevo sfracarne tutte qualcuno di grosso mi ha visto ma no no non ho capito dove era se lo spadacino no hai la testa dura eh ok si prosegue ecco ti hoci sul cupuzzolo così vedo meglio allora di lì c'è da ispezionare anche una zona quindi andiamo c'è qualcuno che sento i passi può essere lì dentro sì sì guardalo guardalo altro che noi in Italia vedi che si moltiplicano anche troppo ok non c'è nient'altro difatti non c'è qualcosa qua eh le nasconderò bene le cose no ma è veramente fatto bene sotto alcuni dettagli questo gioco e quindi mi diverte e quindi mi diverte andiamo qua c'è nessuno buon così buon così sì la risposta è buon così allora andiamo ah già forse devo sviluppare una caratteristica non ci ho fatto caso vediamo allora andiamo Ci siamo, bello! Allora doveva spennato dall'altra parte probabilmente e basta senza boss. Ah, caratteristica, difatti, possiamo metterla, ah questo che mi fa comodo, e manca pochissimo ancora un'altra, bene, sta salendo velocemente. Ok, la grande arteria, c'è nessuno? Ah no, pensavo fosse un passaggio, ah no, vedi c'è il boss, che cavolo, solo che cambiando continuamente la forma dei livelli, è una meraviglia per la demenza senile, ah ah ah, no, allora, vediamo chi c'è in giro, forse l'albero? Oh no, mi sa che è quello esplosivo, vero? Ah, che palle questo, vabbè, proviamo. Sì, dove esplode tutto, uh, questo è meglio farlo in compagnia. Bene, almeno se ho salito di livello. Guarda sto rompi i coglioni. Un po' di fuoco, non è servito a niente. Non esplode tutto. Dai, questa palla. Da solo, è una rottura di quarzo questo livello, questo boss. Merda. Non sta esplodendo, di solito c'erano tutti i botti, non so come mai. Non mi lamento, comunque. Cavolo. Dove sei? Vai dire nervoso. , va bene, cosa behaviorima idee? oirizzo mia. Faci in giro. Se èsto bene... In venderla refined formula, spegnare tutti i bottini, perché era passato. No Ho finito le munizioni proprio adesso Dov'è lo stronzone grosso? Oh, morti tutti Fa il culo Recuperiamo Punti E via verso l'uscita Aspetta, va, voluzione Maledetto Vediamo allora dove ci fa sbucare Non c'è niente? No Qua si Cassa Cassa Ah, mi sta salendo sempre di più la voglia di iniziare l'altro gioco Che è un gioco che ho già giocato, eh Però per adesso non vi dico ancora niente Faccio il misterioso Arrivando avanti ancora un pezzo qua E poi inizio con l'altro E' più Come si dice, c'è più storia lì Meno azione, però la storia è veramente bella E volevo riprenderlo in mano io Prima di Prima di tutto Allora, intanto dove siamo arrivati qua? Vedere se mi fa vedere Ah, si Dall'altra parte Benissimo Quindi Niente Però adesso teniamo il mitra in mano Tudiamo qua Attiviamo questo Nel senso che mi ricarico le armi Poi li apro qua Sarà il chiacchierone No Qui ci ha mandato solo Dall'altro lato Allora visitiamo prima questa Allora di qua Ah, intanto farmi cambiare un po' armi Qua metto Questa Qua Questa Così Per variare Che sento già lamentarsi Ho il martello che Che ruggisce Eh, siamo arrivati proprio dall'altra parte Oh Ah no Qua c'è solo un passaggio Ok Lo faremo poi Adesso voglio andare a sparare ancora qualche colpo di qua Guardali, guardali Guardali, guardali Fremono per volere I miei colpi No, non ti nascondere Allora Wow Un attimo Sì sì, è giusto Allora Prima di qua La bella scossa elettrica E anche lei è andata Lei, lui Boh Ha qualcosa sulla faccia Ok Non mi dire Guardalo Il testolino Un colpo a vuoto Maschera da vagabondo Ce l'ho già No Prendoli prima In testa Speriamo le munizioni Allora Ah, si va a unire qua Forse Vabbè Iniziamo prima di qua Che mi sembra la strada No Ma chissene Andiamo di qua Cosa ti ridi Anche tu Poverino Cosa mi ha visto Cosa mi ha visto Maledetta Essersi cosa tu sia Ok Stavo recuperando Qualcosa Aspetta Ma di qua Si passa Oltre Diventa Pensavo fosse più piccolo La zona Dove sei Mi state organizzando Mi state organizzando Non ne sono sicuro Però Il vetro Ah, non c'è Allora Se salgo sopra Becco sicuramente Qualcuno Però a questo punto Io vado di là E vediamo Cosa c'è Vado bene? Si Così Completo la mappa Ah C'è qualcosa? Ah Mi sono sbagliato Adesso mi è sembrato Di vedere un gatto E allora Opla Nessun altro Allora C'è qualcuno Che rutta Benissimo Bravo Che hai cagato Le munizioni Il martello Che ruggisce Guarda che roba È pieno di passaggi Bene Allora Andiamo Qua sotto Che c'è subito Un passaggio chiuso No Per fortuna No Allora Siamo qua Adesso Andiamo a unirci Dai Stavi super Grazie Grazie divina Proprio Potevi nasconderti Ok E anche qua È stata sistemata Qualcuno Qualcuno che si sforza Dov'è Sopra Eh sì Faccio ste manovre Faccio venire La lausa Da so Oh Qua c'è allora Una scala Che scende Facciamo salire Qua prima Nient'altro Sì Cosina Laggiù Non si sa mai Ci fosse un buco Dietro Quanta agilità Andiamo a vedere Qualcuno che si lamenta Ma fuori Siamo qui Quindi va benissimo Ok Sì sì Abbiamo visitato Tutto Tra i giardinetti C'era un campo Da basket Secondo me Era già così Prima Allora Più nessuno? E sull'altro Ah sì Niente Però peccato Vabbè Speravo in qualche moneta In qualcosa No Piccolo Premio E vabbè E' andata così Sapete che vi dico Vi saluto qua Anzi Poco più avanti E poi rientro Con l'altro gioco Passerà un attimo Chiaramente Però Vabbè Lasciamolo lì Con la roba Chi se ne ha Ah no Prima la caratteristica Vediamo Ne ho due Poi posso andare a metterlo A questo Così L'ho concluso E poi Un po' di Potere mod Una mischia Benissimo E allora Niente ragazzi Ci salutiamo Quindi A più tardi Ciao a tutti